la limited edition con 468 mila chilometri no ma gli interni tu non hai mai ripellato nulla è tutto originale ma è pazzesco è veramente incredibile no non è vero allora tra l'altro qua non ha neanche ceduto come hai fatto ma tu flutui nell'aria ma sì ma una cosa veramente c'è 400 mila chilometri e pass 68 tu flutui quando guidi flutui nell'aria i guarnizioni a posto madonna bellissima l'unica cosa che si è rovinato il pomello del piano ah vabbè capirai quello purtroppo quello si rovina 468 mila c'è anche la musica a tema manco a farlo apposta ma il jtd è un motore affidabilissimo ah lo so il jtd era un motore estremamente affidabile ce l'ho sulla libra ah bella la libra ne piacere la vuoi? non so bene ne vuoi ma sai quante macchine ho adesso sai quante ne ho io? ne vedrai tante anche tu quante ne hai ti giuro sai che al momento non lo so non sto scherzando una lancia delta del 94 questa qua che già è scritta la 1 del 90 una Giulietta del 78 l'alfa 75 del 90 una alfetta gtv dell'84 e un 216 del 83 mamma mia tantissimo guarda sto sto vendendo la 166 25 bussa e busso prima serie puoi venirla a vedere è una paramacchina ma io sei di 200 di genova vero? no non sono di genova perché ho l'accento si sente? no non lo so di 200 è un mix c'è in mezzo zeneisi? beh no genovese no però Liguria c'è qualcosa qua hai messo tu però alfa romeo qua sì mi piaceva la licenza poetica mi piaceva neanche di una l'altra licenza poetica sono le prezze bianche sì l'ho visto l'ho visto questo è l'azzurro povero gabbiano l'azzurro gabbiano? l'avevo sulla 147 1009 jtd anche quella macchina bellissima distinctive ci aveva le prezze lo usavo allora il gabbiano sì sì qua a licenza poetica ci sono le frecce la scritta dietro il volante e il cambio perché io li ho voluti così dalla mia prima 156 quel volante e quel cambio lì sono di una 156 dell'88 del 98? è una L sì sono delle L queste io avevo una L prima di questa poi nel 2002 comprai questo ma il volante in pelle non mi piace no ma anch'io preferisco questo no no è mille volte meglio mille volte meno sì 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 e allora cosa feci? perci mettere il volante al cambio della mia vecchia fatto bene infatti mi hanno soppelato e... ma tu spiegami come hai fatto ad avere le plastiche qua che non si smangiano perché queste qua si smangiano non si smangiano già che piccio è vero è vero tutto il soft touch schifoso guarda che la prima serie meglio era più risicata come dotazione però a livello qualitativo era fatta meglio sì sai che... lo specchietto sono giusto qui quindi c'è ancora la scritta perché c'era rotta sai che mi arriva una 25 V6 busso sportvegon c'era una lui eh lo so ciao entriamo è vero